Ma ti dirò che noi abbiamo giocato, ritengo sempre bene, c'è da dire che i primi due set abbiamo annichilito una squadra molto forte e molto esperta come Cuneo, dopo la loro forte e le loro capacità sono riemerse. Noi ci siamo un po' bloccati, anche un po' innervositi in alcuni frangenti, per giocare contro Cuneo devi essere sempre lucido, sempre perfetto, ma molto bravi i ragazzi a riprendere il quinto set, andare sotto, ripassare in vantaggio, c'è stata annullata una pallabreca dall'arbitro perché ha visto un'invasione che non c'era, ma siamo stati bravi a fare un ulteriore punto, per cui bravi, 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 anche grazie all'aiuto di tutti questi baldi giovani che sono venuti oggi a farci il tifo.